Per la seconda volta il regista Nanni Loi affronta il tema della resistenza. Al teatro dell'Opera di Roma il produttore del film riceve gli invitati alla serata di gala. Tra le personalità intervenute il presidente del senato Merzagora, il ministro Folchi e il presidente della Camera, onorevole Leone. Ecco una delle sequenze più drammatiche e suggestive del film, una scena che pone l'accento sul carattere tra beffardo ed eroico dei napoletani. Sì, comando, comando bene. Settembre 43, la resistenza scrive la sua prima pagina di storia.